Ho festeggiato e mi porto sempre il mangiare da casa che non si sa mai, tutta la merda che ti fanno mangiare in giro e io almeno faccio bene, dico scusate, metto uno scald di bivanda, però lo mettiamo qui perché mi sta venendo una paralisi a forza di tenere lo scald di bivanda e allora abbiamo festeggiato questo anno che è stato per me molto pesante. Il signore è scompagnata, no no, il signore è accoppiato, scherziamo, comunque loro sono i fiori all'occhiello, quando manca a mezzanotte? 5, 10 minuti, sempre 10 minuti, 9, 9, 9, il tempo si è fermato, ma quanto dobbiamo andare avanti? Fa l'una già, fa l'una, ecco, per favore queste foto. Vieni da color ufficiale per favore. Vogliamo far sentire il loro ufficiale? Sì? Via. Fallo vedere perché è carino anche. Cioè lui ogni mattina si sveglia questo rompicoglione. Ah, cioè è allegro. Sì, però è allegro, dopo è molto allegro. E allora, cari amici, io a questo punto farei il classico conto alla rovescia. Vogliamo agevolare una bottiglia di spumande che c'è lì? Ecco, qui là dietro c'è una bottiglia di spumande, perché vogliamo prindare con voi? Visto che è un fine anno finto, ecco, facciavolo bene. Sei capace ad aprire? Ecco. Ci prove, ecco. Allora, attenzione amici, perché noi facciamo anche i petardi, ecco, visto il Capodanno, noi abbiamo scelto di fare il Capodanno stasera, così domani possiamo buttare i piatti dal balcone. Siccome io ho rifatto il bagno a casa, guardate, tutta sta roba, io dove cazzo la metto? Ecco, io alla mezzanotte butto in giù tutto dal balcone. Quindi, la vasca, il bidet, mattonelle, piastrelle, si fa così, si fa anche così. Ecco, attenzione, no, non fare schifezze, ecco, non sporchiamo le prime file, ecco, attenzione, non sporchiamo lo smoking del signore, ecco, certo. È venuto tutto leccato, è la maglia di pile dell'OVS, se la rovina, sono cazzi, ecco. Non te la lavano, manco in tittoria quella roba, ecco, porti in tittoria e fai, lascia penna, bruciala, ecco. Allora, attenzione, perché ci siamo? No, no, voglio, non sbaltano, troppo, andrò a chiuscire le macchie, poi lo dà un pago più, vestiti da più, c'è qualche strumento, allora, scusate, mi hanno parlato in una cosa interna. Meno nove, fallo tu. Meno nove, meno nove, meno nove, me, 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 otto, me, 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 me. Meno nove, meno otto, tutti insieme, meno sette, meno sei, meno cinque, meno buonattro, meno tre, meno tre, meno due, uno, attenzione! What? Chiu, chiesa, chiusa, 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 chiusura!